Tra la 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 rala, tra la la la, 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 tra la 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 Siamo calciatori in gamba, giochiamo al suon di samba, siamo con sacchini veri e siamo immobiliere Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù Di Ponzacco vi vogliamo prevenire L'ultimo precedente fra l'Arcianese e Ponzacco risale al campionato di eccellenza 2007-2008 Allora sulla panchina del rosso blu Pisani sedeva Paolo Tognarelli Attuale condottiero di viola e quindi ex di turno Tognarelli che deve fare a meno di Panella infortunato e Cardillo inizialmente in panchina per influenza Mister Lazzini non ha neppure tra 18 sia Doveri che Pagano Parte forte la Larcianese con Citerra sull'out destro Cross in mezzo per nessuno, palla sul fondo Ancora Citerra, ci riprova nuovamente un nuovo cross, Cappellini fa solo la sfera E' Parisi a sinistra, lo scambio con Landolina, palla in mezzo per Citerra Fuori area, c'è Fioravanti, il suo tiro al lato Ottavo minuto, Landolina lavora una bella palla sulla sinistra Offre a Parisi la possibilità di andare sul fondo Va sul fondo il numero 7 della Larcianese, palla in mezzo per Citerra Ancora fuori per Parisi, colpisce male, palla debole sul fondo Si fa vivo il Ponzacco con Tamberi Dribbla il numero 2 lisci, atterrato, primo munito dell'incontro Ma ancora Tamberi che riceve palla da Davini Si accentra, ne fa fuori due La sua conclusione bellissima di poco al lato Sempre Tamberi, cerca di incuniarsi in aria, di fare tutto da solo Baldaccini all'ultimo minuto, costringe al calcio d'angolo Angolo che batte Barzotti, palla sul secondo palo Colombo respinge corto, c'è Di Gaddo Tiro a colpo sicuro, ma Baldaccini sulla linea Li nega la gioia del gol Ribaltamento di fronte, Citerra Fa fuori sia Di Gaddo che Barzotti Stesso dal numero 3 Ponzacchino, calcio di punizione dal limite Se ne occuperà della battuta Landolina La sua battuta tagliata Cappellini respinge fuori Ma trova il numero 6 Giampieri che con un tiro angolato Porta in vantaggio la Larcianese al trentesimo minuto Giampieri Niccolò, classe 94 Un gol importante per lui Che porta in vantaggio la squadra di Paolo Tognarelli Gioco sospeso per diversi minuti per far rimettere una scarpa Al numero 3 Baldaccini Infatti Fiale protesta per questa decisione dell'arbitro Ma è Borselli che supera Di Gaddo Si accentra in area Trova l'opposizione di Davini E Ponzacco può ripartire Con Barzotti, palla in mezzo per Brega Il suo colpo di testa di poco a lato Trentesimo minuto Tamberi riceve palla da Davini Su fallo laterale Non si accorge che c'è Landolina nel retropassaggio Palla in mezzo per Citerra Larcianese 2, Ponzacco 0 Al quarantaduesimo minuto Il raddoppio dei Pistoiesi Ponzacco frastornato Larcianese avanti due gol Ma il Ponzacco non ci sta Proprio all'ultimo minuto Granito lavora una bella palla Palla in mezzo per Brega Davvero uomo di era di rigore Anticipa Baldaccini E riapri la partita Christian Brega Undicesimo gol stagionale La ripresa inizia Con un cambio nel Ponzacco Fuori Bortoletti Dentro Beltram Ma è un altro Ponzacco Più vivo Più incisivo Soprattutto in fase offensiva Balleri Lancio lungo per Beltram Baldaccini scivola sul pallone Riceve ancora Sandro Beltram Il suo cross in mezzo Non ci arriva né Brega né Granito Corner Di Barzotti Colombo Respinge fuori la palla Dove c'è Matteo Balleri Che rimette in mezzo Ma è ancora la difesa Larcianese Che fa opposizione E riparte in contropiede Con il velocissimo Citera Solo Davanti a Balleri Mette la palla Per Per Landolina Ma è bravissimo Lorenzo Fiale A leggere l'azione E a far ripartire La squadra Ponzacchina Riparte Barzotti Che A centrocampo Cerca di dribrare Il numero Quattro Fioravanti Lo driva Ma poi Quando perde palla Le dà un calcetto E doppia munizione Espulsione Che era evitabilissima Da un giocatore esperto Come Samuele Barzotti Che lascia la sua squadra In dieci Tamberi Riceve palla Sulla destra Si accentra Il missile All'incrocio dei pali Pareggia il Ponzacco Al quattordicesimo Venuto nel secondo tempo Con Federico Tamberi Veramente Un grande gol Per lui Primo gol stagionale Con la maglia del Ponzacco Brega Chiama a sé I suoi compagni Di non festeggiare Ma di andare a cercare I tre punti Merita un replay Secondo me Questo gol Che se ne vedono pochi In questo campionato Ponzacco che pareggia Al quattordicesimo minuto Ma in dieci uomini Per l'espulsione di Barzotti Ancora Tamberi Si accentra in area All'ultimo È chiuso da Lici Che lo porta Fuori aria Ma si libera Cross in mezzo Palla facile Per Colombo Qua Cappellini Combina Un mezzo pasticcio Batte La rimessa dal fondo Ritocca la palla Nuomente in aria E qua si apre Un dibattito Fra arbitro e guardalini Che durerà Più di cinque minuti Entrambi non sanno Che decisione prendere L'arbitro Che si consulta Con il suo assistente Assistente che Comunica un calcio Di punizione A due in area In un primo momento La decisione Del direttore di gara È quella Ma il regolamento Prevede la ripetizione Del fallo Da fondo Come vedete Proteste Dei giocatori Del Ponzacco L'arbitro si va Nuovamente A consultare Con il guardaline Che cambia La decisione Quindi Per fortuna Decisione corretta Quella di rimettere Nuovamente La palla Dal fondo Non capita molto spesso Di assistere A queste Scene Granito Ci prova Il suo diagonale Di molto a lato Ancora Tamberi Palla in mezzo Brega Di testa Arriva Beltram Da 25 metri Il suo tiro Fortissimo Sopra la traversa Ma è bravo Colombo A mettere In corner Si fa viva L'Arcianese Con l'andolina Cappellini Anticipa All'ultimo Cetera Qua anche L'Arcianese Rimane in 10 uomini Per l'istruzione di Parisi Reo di aver mandato A quel paese Il direttore di gara Ancora Ponzacco Brega Si gira Al volo Colombo Impassibile Se la palla era Nello specchio della porta Sicuramente Era rete Ma è andata di poco Fuori a lato Tamberi Imprendibile Sulla fascia destra Palla in mezzo Tagliata Rispinge Colombo Brondi Da fuori area Posizione invitante Tiro Malissimo Sul fondo E ancora Tamberi Calcio di punizione Respinta dalla barriera Dinelli Palla in mezzo Sempre il numero 7 Ponzacchino di testa Palla alta Partita che finisce Al 94esimo Larcianese Ponzacco 2 a 2 Ponzacchino di testa